Sasso, carta, forbice, pari, sasso, carta, forbice, io, vinci tu Benvenuti su 5 Pane e 2 Pesci, avventura di provvidenza quotidiana Oggi scopriremo perché la libertà è piena fiducia in io, vai Ben tornati, io sono Francesco, io sono Alessandra Oggi nuovo episodio di avventura di provvidenza quotidiana Avevamo diversi argomenti e tutte e due avevamo un argomento preferito che non abbiamo detto all'altro E abbiamo fatto questo gioco stupido per decidere di cosa parleremo oggi E ho vinto io Quindi parleremo oggi di? Della libertà Della libertà E' imbarazzante questo discorso Perché è super romantico, quindi sono sicura che ti dà fastidio Sì, infatti sono infastidito Però ho vinto io Parli tu, vabbè E quindi... Io ascolto Dai faccio la fase romantica No L'altra mattina tu non c'eri? Eri a Milano a fare un matrimonio E allora mi sono svegliata alle cinque con quelle mattine estive in cui c'è quell'aria fresca Quella luce calda in cui ti godi E l'idea, l'immagine che ho io della libertà E allora ho pensato a quel mio amico Francesco che avevo conosciuto alla marcia Questa cosa mi imbarazzano a morire Non si mi fa fastidio Eh vabbè, adesso lo puoi superare No E quindi ho pensato questa cosa Che la cosa di cui io mi sono innamorata di te Proprio... Ma innamorata non è... Non soltanto nel senso No Innamorata persa No Cioè la cosa che mi ha colpito di te come amico Come persona Cioè la mia stima È partita dal fatto che io Con te avevo quella sensazione di libertà Vabbè, il background Background è che io ed Alessandra ci siamo conosciuti alla marcia francescana del 2002 E io stavo già facendo il dottorato di ricerca Quindi avevo già finito l'università e stavo in Svizzera Lei invece doveva andare all'università E come giustamente ci saranno anche tante altre persone che hanno vissuto questa cosa O che stanno vivendo Ragazzi che vi vede la scelta universitaria, forza Questo è il video per voi Uno ha tanti dubbi su quello che effettivamente deve fare Ed è difficile scegliere senza aver provato Senza aver capito Io personalmente Ero scarsissimo a scuola E proprio scarso Il quarto superiore sono stato l'unico della mia classe a essere rimandato in fisica Proprio ero scarsissimo Un po' sfigato però Sfigatissimo E poi Quando è stato il momento di scegliere l'università Io fino a quel momento mi ero totalmente dedicato allo sport Io facevo ciclismo e attività agonistica E per me quello era la mia realizzazione E avrei voluto lavorare con quello Però poi non so che cosa è successo Quando c'ho avuto 18 anni ha deciso che invece non volevo fare questo nella vita E mi sono dato questa possibilità dell'università Ben sapendo che non ero in grado Perché ero scarsissimo a scuola E quindi ho scelto Per la cosa che più mi interessava A me piaceva conoscere come funzionavano le cose E quindi ho detto voglio fare ingegneria E tutti 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 Mi hanno detto No Lascia perdere Ingegneria è difficile Lascia stare Tra l'altro sto in fissa con un video che si chiama Il titolo è Do what you can't Che è proprio Fai quello che non puoi fare Perché è proprio su questa cosa qua E quando tu vuoi fare una cosa bella Tutti ti dicono No Ma lascia stare Ma è impossibile Così Cosicché mi sono scritto ingegneria E non ho passato il test Perché giustamente ero scarsissimo Breve storia triste Del ruvido Non ho passato il test E tutti i miei amici Tutti hanno passato il test Invece Giustamente Tutti mi hanno passato il test Io ero l'unico Potevi copiare almeno Era complicato il fatto Insomma Avrei copiato tutto Ma non era così fattibile Era una cosa di quelle Ti facevavi 10 secondi per ogni risposta Era una cosa Una folla Una follia Vabbè comunque Non ho passato il test Ero un po' Così demoralizzato Perché in realtà Dopo qualche giorno Molta gente Ha deciso di andare da altre parti Quindi sono stato ripescato E sono Ho passato questo Sono riuscito ad entrare in ingegneria Ed è stato durissimo I primi sei mesi Sono stati tremendi Io ero l'unico Che non passava gli esoneri Ho studiato veramente Come un Veramente Non esisteva altro Cioè io Arrivo la mattina All'università E uscivo la sera E stavo sempre a studiare Cercare di recuperare Tutto quello Che in qualche maniera Non avevo fatto Negli anni precedenti Cosa che poi ho scoperto Che è meglio Partire da zero L'università Anyway Quello che è successo È stato questo Che Mi era dato questo termine Di Se non riesco a fare gli esami Lascio l'università E vado a lavorare Ti apri una pizza al taglio Mi apro la pizza al taglio Non lo so Apro un negozio di biciclette E poi invece Dopo veramente Un lavoro durissimo Sono riuscito a fare Analisi 1 E geometria Al primo semestre Con dei voti medi Niente di particolare E poi Al secondo semestre Sono riuscito a fare fisica E ho preso 30 Quindi Ciao professore Di quarto liceo Ho preso 30 Ho preso fiducia in me stesso E ho capito Che la fisica Mi piaceva più Dell'ingegneria Così che Dopo due anni di ingegneria Ho fatto fisica Questo qua era un po' Il background Per capire il discorso Che diceva tale La cosa che mi colpiva un sacco E quello mi diceva Tu scrivi Il mio problema era al contrario Perché ero bravo in tutto E quindi Come fai a scegliere Cioè non è che mi piaceva Particolarmente tutto Però ero bravo Riuscivo in tutto Quindi potevo scegliere tutto Che Tranne chimica Però tutto il resto Era un Perché invece Ingegneria la potevi scegliere Non lo so Però matematica Che ero fortissima E' giusto in chimica Ma proprio che non mi piaceva Non mi interessava Amici chimici Purtroppo non riusciamo a capirvi Nenche la chimica Tanto mi piace Vabbè Quindi il problema era al contrario E lui mi diceva No ma che problema Cioè tu ti iscrivi Fai un anno Facendo gli esami Lavorando sodo Dopo un anno Decidi se ti piace Non ti piace Se continuare o no Io dicevo No Veramente Posso avere questa libertà Di decidere Di scegliere Poi perdonare Poi perdonare I sensi di colpa Che i miei Mi mantenevano fuori Università Le aspettative Che comunque C'ha dovevo fare Dove essere fantastica Eccetera Questa libertà Mi ha proprio Cioè Io non ho mai sentito Da nessuno Sto cosa Che tu puoi scegliere Puoi cambiare Puoi decidere Ti puoi prendere il tempo Di fermarti addirittura E riflettere Se mi piace Perché di riuscirci Magari ci riuscivo Non avevo Quest'ansia E se mi piace Cioè È incredibile No mi rendo conto Che questo argomento È molto Proprio Sta finendo la scuola Molti Si stanno preparando Per l'esame Di maturità E molti Magari stanno Anche così Decidendo Che cosa fare Il prossimo anno All'università Se magari anche cambiare Però questa libertà Di cui mi sono innamorata Cioè È la cosa che più Mi ha fatto avere stima di te È stata la cosa Che più ho odiato in te Ecco L'altro giorno Alessandra mi ha detto Ma allora Non so che cosa ho detto Una cosa qualsiasi mia Ma allora tu Veramente Sei un talebano Si E io ti ho risposto E questo è Questo qua è il mio miglior pregio Infatti Comunque non mi sarebbe dispiaciuto Avere un marito Pizzettare con i supplì Ce l'ho di la verità Ci sono diventata grossa Ci sono diventato uguale Però Però mi sarebbe piaciuto Sai Ma bene Ma bene Vabbè detto questo Quindi questa cosa qua Che mi ha proprio affascinato Proprio Mamma mia Che uomo Che libertà Proprio Il mondo è tuo Cioè proprio Apriamo le finestre Per dire Il mondo è tuo Se noi ogni pomeriggio Stavamo sotto gli alberi Così mentre ci riposavamo Dopo aver camminato Trenta Quaranta chilometri La mattina E parlavamo di ste cose Era bellissimo Era bello Però poi quando ci siamo sposati Questa libertà Di cambiare Più che di cambiare Di mettersi in discussione Proprio Cioè perché il cambiamento Poi è una cosa successiva Fare delle scelte È stata una cosa successiva Andare in Europa È stato Lasciare il lavoro Fare cinque paio e due pesci Eccetera 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 E non finisce mai Perché poi mio marito Sa sempre a rilancio Mo deve andare a vivere Nel camper Non nel camper In un furgone Buttato Degli anni 70 Che deve ricostruire Lasciamo perdere Che è meglio Prima che mi arrabbio Detto questo Questa libertà È stata una cosa Che più mi ha messo In crisi Cioè come se Da un lato Tu hai dato Il spazio A A A A permettermi Di poter pensare Delle cose in grande Dall'altra parte Però cacchio Cosa che ti spaventa Di questa cosa Della libertà Non ho capito È perché Mi metti in discussione Mi toglie le sicurezze Mi toglie le certezze Che poi sono tutte stupidaggini Ma che certezze sono Alla fine Voglio dire Beh avere uno stipendio A fine mese È una certezza Sì vabbè però Abitare in un posto Per sempre È una certezza Allora se fosse stato Per te Noi saremmo rimasti Magari a Strasburgo Che comunque È un posto dove Noi ci troviamo Molto male Perché quella Era una certezza Invece il cambiare Ci aiuta A capire A approfondire A vedere anche Cosa uno veramente Desidera Una cosa che mi ha Molto colpito Durante una confessione Recente È stato proprio Questo che Chi ti ha confessato? Non me lo ricordo Forse Don Giovanni Ma forse no Non mi ricordo È stato che Nella confezione Punto fuori Questo discorso Che Più Si approfondisce La conoscenza Con il Signore E più vedo Che divento Me stesso E volevo arrivare A questo punto Esatto E questa è una cosa Che Che ho trovato Proprio scritto Non mi ricordo Se nel catechismo O addirittura Nelle lettere di Paola Qualche parte Cioè È biblico Ed è veramente Fa parte proprio Della chiesa Ed è questo Cioè il cammino Verso Dio È un cammino Verso te stesso Se il cammino Verso Dio Non ti porta A te stesso Non stai camminando Verso Dio Allora Dopo che ho pensato Questa cosa Che la cosa Che più ho amato In te Che più amo E che più detesto È questa Dopo ho pensato Ma perché Cioè Ma perché È che serve Cioè Ce l'ha un motivo Questa cosa E allora La cosa a cui sono arrivata A pensare Questi giorni Pregando È stata proprio Questa qua Di essere te stesso E io pensavo Che essere te stesso Che tu ti senti meglio Che tu ti senti Però quello è il risultato Cioè per arrivare A essere pienamente te stesso E a vivere una vita piena Devi Almeno io mi sento Che sto passando O sono passata Per punti tragici Nel senso È una forgia In cui Mi sono dovuta mettere in discussione Ho dovuto lasciare delle cose Ho dovuto provare Quanto mi fido di Dio Quanto non mi fido E non è una cosa astratta Cioè mi sono dovuta Fidare di te È come Io a volte immagino Che Cioè che Dio mi crea Come un tozzetto No? Di Di legno No? E dentro ci sta Veramente quella nervatura Che è il cuore centrale No? Di Di quello che sono io E la vita è quel lavoro Di Di rifinitura Fino ad arrivare A quella A quella radice Vera Autentica Pura Cioè pura vuol dire Che ci sto solo io E non ci sono tutte quelle altre cose Attaccate La maggior parte delle volte Noi viviamo Partendo dalla scelta universitaria Al lavoro E tante cose Che uno fa nella vita Veramente soltanto per Come si Fulfill Cioè No Rispettare Le aspettative Degli altri Dei tuoi genitori Della tua famiglia Di quello che Ma anche proprio I tuoi progetti Di quello che Di quello che è bene fare È bene sposarsi È bene Avere un lavoro Fisso È bene Non lo so Avere dei figli Non avere dei figli Poi ognuno Mi ha portato A dovermi fidare Questo fidarmi Che è difficilissimo Perché io Mi piace di più Tenere sotto controllo Che fidarmi E seguire i miei progetti Anziché fidarmi Poi mi ha portato A essere In realtà Più profondamente Me stessa E me stessa È essere figlia Di Dio Cioè essere amata Dire Stai calma Tranquilla Ci penso io Ci penso io Ma non che il Signore Ti toglie le cose Adesso Ti chiede Qualcosa Adesso ci penso io Tu non devi fare niente No E nel senso di Fidati Che questo è meglio Di quello che tu hai pensato Di quello che hai pensato per te Che hai pensato per te E con i figli Noi la vediamo sta cosa No Fidati Che dirti Che hai 12 anni E non puoi tornare alle 11 A casa Perché sei andato a mangiare la pizza L'altro giorno Storia vera Storia vera È un bene per te Perché tu possa vivere la tua età Secondo la tua età Quindi non ti permettere più Di tornare alle 11 a casa E Dio fa lo stesso con noi E in più questa cosa Dà una pienezza più grande Non lo so Puoi vivere la libertà Secondo me È solo quando veramente Ti senti profondamente amato Però amato Sembra Che ti devo accontentare Cioè Io ho sempre scambiato Questa cosa Cioè che Dio mi ama Quando mi ascolta E fa quello che chiedo io Nella preghiera E invece Dio mi ascolta E fa esattamente Quello che dice lui E questa cosa qua però Mi fa sentire ancora di più amata Perché il suo amore È molto più grande Del mio amore Verso me Cioè io penso che amore È che teniamo d'accordo È che tu non mi metti In discussione Fare il bene per te Cioè Realizzare il bene per te E invece il bene più grande Per me È quel mettermi in discussione Ogni volta Poi diventa sempre più facile Però è stato un trabocchetto Questa libertà Ma ce l'hai un esempio concreto Di stato sempre più facile? No Di questa esperienza di libertà Che tu magari pensavi di fare questo Invece poi Capito La tua Tu dopo Facendo un'altra strada Che non ti sembrava adeguata a te In realtà l'hai sperimentato Una libertà più grande Eh io mai avrei pensato Di tornare in Italia Ma proprio tu lo sai Sono stati due anni tragici In cui c'era il solo pensiero Di tornare in Italia Le frasi storiche di Alessandra Io torno in Italia Solo se me lo chiede il vescovo Solo se un vescovo Mi chiama ufficialmente La chiesa Mi chiama ufficialmente E mi appare la Madonna Uno dei due Uno dei due Non ci sono altre cose Per cui io posso Altri motivi Per cui io posso tornare in Italia E invece Sono stata in crisi due anni Solo al pensiero Che probabilmente Cioè Facendo cinque paia due pesci Forse era più logico Abitare in Italia E invece? È stato tragico Eh vabbè ma Però poi tornando in Italia Poi le situazioni Ci hanno un po' spinta A questa cosa Ma è lunga da raccontare Però Ci sono stati dei fatti concreti Proprio pratici Della casa Di Maria Che non stava bene Per quella casa Eccetera eccetera Che ci hanno Un po' messo fuori Casa nostra E non siamo riusciti A trovare un'altra casa Non siamo riusciti a trovare Cioè sembrava tutto impossibile Io non ce la faccio più Fare i viaggi Dalla Germania Fare quei viaggi No vabbè ma Poi anche tutti quei viaggi Così pesanti Sì era pesante Eccetera Quindi le situazioni Poi Mi hanno Quasi obbligata Arrivata in Italia È stata dura per me Accettare questo cambiamento È stato difficilissimo Ehm Però vedo quanto è stato bene per me Perché Mi sono liberata Di tante certezze Di tante sicurezze Mi sono alleggerita Non lo so È come un trasloco in cui Ogni volta che uno fa il trasloco Lascia un sacco di roba Infatti è l'occasione A casa nostra Per sbattire Per fare pulizia E mi sono sentita Alleggerita di un sacco di cose Che Delle sicurezze Poi in realtà Se ci penso oggi Anche Non tanto sicurezza Cioè il punto è questo Che noi Di avere quella scuola Di avere quella amica Di avere quella casa Di avere quel giardino Di avere Le mie abitudini Che il pomeriggio vado là Di avere il mio supermercato Con le mie cose Cioè il punto è questo Che la maggior parte Di avere la sicurezza economica Non so Di uno stipendio fisso Ma in realtà La sicurezza è quella Che tu vuoi veramente È quella di essere Amato da tua moglie Quello che Vuoi il bene Per i tuoi figli Vuoi riuscire a costruire Una relazione Che sia Sia nella tua famiglia Sia all'interno Della tua famiglia Sia con le persone fuori Che siano solide Profonde Tutte queste cose In realtà Un lavoro Questa cosa qua Non te lo dà Non te lo dà È inutile dire Che la sicurezza Non ce lo dava Questa cosa No ma Ce l'avevamo E non ce lo dava Il punto è che tu Puoi puntare tutto Nel trovare un lavoro Stabile Poi per trovare Questo lavoro stabile Io ho un esempio in mente Tu per avere La sicurezza economica Praticamente Distruggi le relazioni Intorno a te Dicendo Io lo faccio Per la famiglia Esci alle 7 di mattina Torni alle 8 di sera Tu la tua famiglia La sei persa Questo qua È un grande classico Tu con la sicurezza No così io posso Dare la macchina E così io posso Dare la casa Ma è meglio Vivere in una tenda È meglio Vivere in una tenda Anche perché Eh ma quando tu dici questo Io lo sento vero E sento una grande libertà Però me la faccio così addosso Che mi terrorizza Questa libertà Mi terrorizza Perché io la sento vera Cioè tu quando fai Questi discorsi Io li sento veri Ma mi spaventano Comunque pausa Da questo discorso Non vi azzardate A commentare Con commenti stupidi Eh no Però è il lavoro Eh ma se uno non c'è Non ti azzardare Se stai lì per commentare Non ti azzardare È una minaccia È una minaccia Perché sono stufo Fai fa un paura Sono stufo Di sentire commenti stupidi Farò un video Commenti stupidi Quindi se metti un commento stupido Io questo qua Sarà lì nella lista È chiaro che il lavoro Bisogna averlo È chiaro che Come bisogna avere la salute Il lavoro Due gambe Una testa È chiaro che bisogna averle Tutte queste cose Però tuttavia Il cammino Di priorità Il cammino Di capire cosa è bene Veramente per te E per le persone Che ti stanno accanto Non si basa Su concetti standard Esterni a te Tipo Allora devi avere Il lavoro fisso No puoi anche avere Un lavoro che sia Instabile Il punto è che Puoi anche scegliere Un percorso di studi Difficile Come ho fatto io Il punto è che non è Quello è il punto Il punto è che non è Quello è il punto Però tutti pensano Che è quello è il punto E noi quando abbiamo avuto Tutto Cioè abbiamo avuto La carriera fantastica Abbiamo avuto poi Finalmente uno stipendio Super Abbiamo avuto La casa che ci piaceva Col giardino Nel posto che ci piaceva Abbiamo detto E quindi Tutto qua Che ci fai Che ci fai E quindi cos'è Quell'ingrediente fondamentale Però ti metti in discussione Perché dentro di te Dici che Io dico che ci faccio E sento vero E sento Che dovrei prendermi Una libertà Uscire da quella cosa Però farlo Mi fa Mi terrorizza E cos'è Cos'è quell'ingrediente Poi l'ho fatto Che cos'è Ma l'ho fatto solo perché c'eri tu Non l'avrei mai fatto da solo E che cos'è Quell'ingrediente fondamentale Per te Non è la casa Non è il lavoro Non è i figli Non è sposarsi Che cos'è che cos'è E' il progetto di Dio E' il progetto di Dio No non c'è un'altra cosa Perché seguendo il progetto di Dio Vivi quella libertà Vivi quella fiducia Che è impagabile Non ci sono stipendi fissi Che tengano Dopo Perché tu devi lasciare una cosa che conosci E devi fare un salto in qualcosa di incerto Che non sai se funziona No No E mi viene sempre in mente Pietro Che mette il piede fuori dalla barca in tempesta Oh non lo sai mica se regge Lo dici tu che cammina sulle acque Cambina sulle acque sì Sì vabbè Però il piede ce lo devi mettere Il piede ce lo devi mettere E fa paura Devi guardare il Signore E dirgli Se sei veramente tu Allora fammi venire lì dove sei tu Eh fa paura No fa paura Però volevo fare un esempio concreto della mia vita Io quando avevo vent'anni così Quindi quando già stavo studiando fisica E tutte queste cose qua Io però avevo il grande desiderio Di vivere la montagna E quindi Avevo pensato Beh quindi come lavoro Potrei cercare di fare La guida alpina Mi trasferisco in montagna al nord E faccio questa cosa Perché sentivo vivissimo questa parola Io voglio vivere una vita Che metta a repentaglio La mia vita Cioè proprio Non per il gusto di Essere al passo Così vicino alla morte Ma piuttosto perché Pensavo fosse Fosse autentica Cioè la vita Messa a repentaglio È autentica Cioè la vita è sempre stata così Tutte queste sicurezze Che ci siamo messi intorno In realtà Sono Sono Un po' costruzioni Che ci siamo fatti Poi domani mi viene il cancro E muoio uguale Cioè non Attenzione Non commentare Che questo qua è una frase È un po' controverso Questo discorso Non commentare di getto Perché Calma di questi commenti Per un commento strano Stai sereno Stai sereno Avevo questo desiderio Però in realtà Mi sono fatto male a un ginocchio E quindi questa strada Poi non l'ho più continuata E invece Continuo la strada della fisica E eccetera eccetera Ma adesso Negli anni Che sono passati Quasi vent'anni Da Da quei pensieri Che avevo In realtà Mi ritrovo a vivere Proprio esattamente Quella cosa lì Però in una modalità Complicemente diversa Che il Signore Mi ha indicato E ci ha indicato E che stiamo vivendo In pienezza Cioè non è un mettere A ripentoglio La propria vita Per fare Stupidaggini O il figo O il figo Non so che cosa Ma è Vivere la vita In maniera Intensa Vera E senza Pagliativi E senza sicurezze Che siano costruite Cosicché Cioè il fatto Che adesso Noi viviamo Appunto Dedicandoci All'evangelizzazione Spendendoci Per Per tutte le persone Che vengono Da noi Per i nostri figli Eccetera eccetera Non è sicuramente Una vita Fatta di sicurezze No In nessun caso Né nella casa Né nei soldi Né nel lavoro Niente Non ci sono sicurezze Materiali Però Quindi si realizza Un po' quel desiderio Che avevo a vent'anni Però in una maniera Completamente diversa E all'interno Di un progetto Di Dio È una cosa Per questo volevo dire Quel pensiero Che avevo detto all'inizio Cioè Camminare nel progetto Di Dio Conoscere Dio Ti porta a essere Sempre più Te stesso E sicuramente I tuoi desideri Portano il timbro E la firma Di questo progetto È soltanto Che spesso Vanno sgrossati Vanno sgrezzati Vanno Devono passare Veramente per quella Forza Purificati Vanno purificati Sì Ma secondo me c'è una differenza Tipo Fra i martiri E chi E mettere a reprentaglio La tua vita Cioè non è che i martiri Cercano la morte Non è che Massimiliano Colbi Ha detto Wow Io voglio morire Cioè sarebbe un pazzo E non è cercare la morte È dare la vita Dare la vita Per qualcosa Per avere una vita piena Assolutamente Non è cercare la morte Cioè Nella pratica Non è che A me mi fa piacere Avere Non avere lo stipendio fisso O non avere le sicurezze Certo A me mi farebbe piacere Anche lavorare di meno Mi farebbe piacere Avere più soldi Lavorare di meno Avere una casa mia Grossa E accontentare Mio marito Di se comprare questo furgone Che ci devi andare a vivere Cioè farlo contento Mi piacerebbe avere questo Questo e quest'altro Però Vedo Che trovo più pienezza Cioè che c'è una cosa più grande C'è una cosa più grande Non voglio morire O perdere le mie certezze Ma voglio donare la vita Perché questa cosa qua Mi dà pienezza Sì Penso che sia questo In tutto il discorso Un po' disordinato Che abbiamo fatto No penso che sia proprio questo Il cuore della cosa Cioè Che quando tu Arrivi coscientemente A donare la vita Quando tu ti metti in cammino Verso questa cosa qua Aperto a tutto quindi Cioè non più A cercare di realizzare I tuoi progetti Per quanto siano buoni Ma piuttosto Donare la vita All'interno del progetto di Dio Allora veramente Lì si acquisisce Quella libertà E quella pienezza Che nessuna Situazione materiale O anche realizzazione Di due progetti Secondo me Può realizzare E poi voglio dire Un'ultima cosa Che io ho sempre pensato Che queste cose Le avrei capite Nella preghiera Nell'ascolto col Signore Ed è così Ma allo stesso tempo Nella pratica Le ho capite Perché il Signore Perché c'ho te a fianco Quindi nelle persone Cioè queste cose Le capisci Le vivi Nella vita reale Cioè non sono due cose separate La preghiera La vita reale E il mio marito Che rompe le scatole Perché vuole andare a vivere Puoi finire Cioè è che la mia preghiera La risposta È mio marito Che rompe le scatole E quindi Ho tutte le difficoltà Della vita Che succedono Il tuo capo che rompe Il tuo mamma che rompe Eccetera Le tre situazioni concrete Della vita Time is up Salutiamo Allora ragazzi Vi dobbiamo salutare Non vi abbiamo spiegato Perché stiamo qua Vabbè ve lo diciamo Un'altra volta Vi vogliamo bene E ci vediamo Al prossimo episodio Grazie Grazie per i commenti Bellissimi Sì In parte quelli brutti C'è una marea Di commenti Bellissimi Vi ringraziamo per questo Mettete un like E schiacciate sulla campanella È troppo squalido Di te sta cosa Ciao Ciao Grazie per essere stati con noi Per approfondire Vai sul nostro blog All'indirizzo 5p2p2p.it Dove troverai Articoli e testimonianze Sull'amore La vita di coppia La relazione con Dio E tutto quello che serve Per vivere una vita piena Ciao 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 Grazie a tutti